Sono Stefano Zambelli, sono il responsabile della squadra Antincendio Boschivo di Ponte Nossa e questa mattina ci siamo trovati alle scuole elementari di Ponte Nossa nell'ambito dell'esercitazione di Antincendio Boschivo che abbiamo organizzato con la comunità montana per cercare di coinvolgere gli studenti delle scuole medie in questo tipo di attività. Reputiamo sia importante coinvolgerli in quanto saranno le future generazioni che dovranno avere cura e tutela del nostro territorio. Abbiamo iniziato con una piccola lezione di teoria facendo vedere alcuni firmati che ci ha fornito Regione Lombardia nella sala sottostante e abbiamo poi terminato la giornata facendo vedere i mezzi che utilizziamo per le opere di spegnimento e come operiamo nell'ambiente. Quindi crediamo sia importante coinvolgerli proprio per far rendere conto anche questi ragazzi di come e di quanto lavorano i volontari di protezione civile per tutelare il nostro patrimonio boschivo. Il nostro gruppo oltre che di Antincendio Boschivo ovviamente si occupa di protezione civile e abbiamo fatto vari interventi anche nell'abito del sismo in Abruzzo e di varie alluvioni qua nel nord Italia. Facciamo parte del coordinamento di protezione civile della Regione Lombardia e della provincia di Bergamo e operiamo su richiesta anche in ambito nazionale. È un piacere che noi abbiamo accettato l'invito delle guardie boschive per un intervento con i nostri ragazzi della scuola secondaria per far conoscere questo servizio, le modalità di attuazione del servizio e anche una dimostrazione operativa di come queste guardie intervengono in caso di incendio. Per cui questa mattina i volontari delle guardie boschive intervengono sia qui alla scuola media di Ponte Nossa per le classi terze e anche alla scuola media di Gorno per le classi prime, seconde e terze. Questa iniziativa la riteniamo molto interessante per i nostri ragazzi considerato anche l'ambiente del nostro territorio e le situazioni che a volte succedono proprio di incendi soprattutto perché si instaurano una collaborazione con gli enti del territorio e anche perché i nostri ragazzi saranno i cittadini del domani e devono essere pronti ad affrontare anche queste problematiche.